Rolavita di scambio di un centro avviso, amore, atten! ho avuto modo di provare personalmente in occasione di una visita un viaggio che abbiamo fatto in Germania ci siamo soffermati con degli amici al campo di concentramento di Lacau ci sono entrati personalmente ho visto le barbarie l'astrocità che sono state fatte in quel campo e mi è rimasta particolarmente scolpita nella mente un'immagine una foto che ve la descrivo era una catasta alta di 7-8 metri enorme di corpi umani era un'enormità di corpi ammassati, nudi in questa montagna enorme e mi è rimasta particolarmente impressa di quanto fosse le cose atroce le condizioni là dentro e cosa succedeva in quel campo era un campo che è stato totalmente smantellato era rimasto poco una semplice baracca nella quale erano detenuti i deportati ed era rimasta riempita di immagini una peggio dell'altra tra le quali questa che era particolarmente drammatica ecco volevo un po' raccontare questa anche mia personale esperienza per quel periodo che è stato un periodo drammatico per tutta l'umanità in terra ecco grazie grazie